Spettacolare incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, questa mattina sull'autostrada A10. Il sinistro si è verificato verso le 9 tra i caselli di Albissola e Celle Ligure. Protagonista un camion che poco prima di entrare nella galleria Porcile ha perso il controllo finendo contro le barriere laterali. Dopo l'impatto si è ribaltato rimanendo su un fianco al centro della carreggiata. Sul posto si sono così recati i vigili del fuoco della sede centrale di Savona che con l'ausilio di un autogru hanno raddrizzato il mezzo pesante. Nessuna conseguenza per il conducente, che ferito solo lievemente, era già uscito da solo dall'abitacolo. L'incidente ha però causato pesanti ripercussioni al traffico.